Parigi, furti, rapine, omicidi. Sei famiglie mafiose si dividono la piazza e non sono tollerati né l'anarchia, né il caos. La mala al suo sceriffo. Ed è la furia. Il ruolo della furia deve meritarlo. La furia muore oggi. Prima mi baci e poi mi fai uccidere! Preparatevi. Ma la verità uscirà.